Grazie a Fabio Altitoranti che ha avuto questa iniziativa, grazie al Consiglio regionale. Grande iniziativa oggi presso Mind, Milano Innovation District, con la presenza dei sindaci della città metropolitana di Milano e con l'intervento del Presidente Fontana, che sta lì a testimoniare come la creazione dell'ecosistema dell'innovazione per Regione Lombardia è una priorità, anzi la priorità, perché è da questo sito che si partirà col rilancio della nostra nazione, il più grande e importante progetto d'Europa per la creazione di un ecosistema dell'innovazione. Tre pilastri pubblici, l'ospedale, il campus universitario scientifico dell'università statale, terzo pilastro, Yuma Technopol. Ma oggi con i sindaci vorremmo condividere una grande opportunità, quella del bando Mind Lab, perché in questi anni in cui si svilupperà questa grandissima area di un chilometro quadrato, noi non ci fermeremo e daremo la possibilità alle piccole, medie e micro imprese del territorio della Lombardia per presentare dei progetti innovativi su diversi ambiti, l'ambito digitale, l'ambito dell'intrattenimento culturale, sport, l'ambito delle smart city, quindi la mobilità, testare l'innovazione. Se avete delle idee andate sul sito mindmilano.it, presentate il vostro progetto entro il 31-12-2018. Perché Mind deve essere un progetto di tutto il territorio, deve essere il progetto della Lombardia, deve essere il progetto delle piccole, medie e micro imprese lombarde che devono avere la loro opportunità anche all'interno di Mind. Noi metteremo a disposizione degli spazi per testare le vostre idee, per sviluppare le vostre idee, perché Mind vuol dire innovazione, ma non un'innovazione per l'elite, ma innovazione per tutti. Giocate la vostra scienza!